Fino al 30 agosto presso il Golf Verdura Resorte di Roccoforte è in esposizione una mostra di fotografie, sono scatti che rientrano in un percorso fotografico che si chiama Commistioni. L'autrice è Letizia Palagonia che ringraziamo, salutiamo il nostro ospite oggi per parlare di questo appuntamento ma anche della sua attività di fotografa. Sono delle fotografie che sono naturalmente a disposizione del godimento degli ospiti di Roccoforte ma per quanto riguarda Letizia è una cosa importante avere avuto questa opportunità. Possiamo cominciare con un commento su questo? Sì, decisamente importante perché intanto sono a casa, quindi sono a Sciacca e sono comunque in una realtà internazionale che il Verdura Resort offre, per cui la mostra ha avuto una location assolutamente adeguata. Commistioni, al di là del significato diciamo lessicale, qual è il senso artistico? Il senso è proprio quello di ritrarre la città contemporanea, è vista come un unicum stilistico fondamentalmente, dato dalle sovrapposizioni che necessariamente negli anni vengono apportate dall'uomo. Commistioni non necessariamente esteticamente godibili, a volte sono anche vessazioni vere e proprie delle nostre città, ma in questo percorso fotografico proprio l'obiettivo è quello di trovare un comune denominatore nelle città contemporanee di tutto il mondo. Infatti al Verdura c'è un'esposizione abbastanza ampia di foto con un focus sulla Sicilia, ma il percorso fotografico è comunque stato realizzato in diverse città del mondo, da Lavana a Hong Kong, Londra e così, e troviamo questo comune denominatore. Volevo chiederti questo, il significato per quanto ti riguarda della fotografia come arte, come approccio, quando è cominciato intanto? È cominciato prestissimo, è cominciato sin dai tempi della scuola media, con un primo viaggio di istruzione in Sardegna, mi era stata data dai miei genitori una macchinetta fotografica proprio di quelle antichissime e da lì sono nate le prime fotografie e da lì non mi sono più fermata, poi ho cambiato il mezzo, sono cambiati i soggetti, ma da lì. Tu sei architetto? Sì. Mi ha incuriosito molto perché tu hai fatto tantissime cose, ne parleremo nel corso della nostra conversazione, tra cui hai anche un portfolio fotografico sulla rivista Vogue, quindi sul sito per chi fosse curioso di andarlo a consultare. Mi è piaciuta molto la definizione che ti hanno dato di territorialista, è un senso architettonico ma ha anche un valore rispetto ai soggetti che tu prediligi nella tua attività fotografica che è quella delle città, del territorio in generale. Cosa ci puoi dire su questo? Il territorialista è un termine che indica una figura professionale di architetto più rivolto allo sviluppo del territorio come sono io e mi è stato affibbiato affettuosamente quando ho fatto una collaborazione in FAO, sono entrata nel loro gruppo di territorialisti, cioè quegli architetti o specialisti del territorio, a 360 gradi, cioè ci occupiamo sia del punto di vista urbanistico ma anche dello sviluppo socio-economico, d'altro canto l'urbanistica comprende anche questo. Ovviamente lo sguardo che mi ha fatto ampliare la collaborazione sia con la FAO che con altri organismi internazionali, ONG, ha anche avuto un'influenza nello sviluppo diciamo del mio percorso fotografico perché c'è un'attenzione, un modo di guardare le città e il territorio un po' più ampio. Tu ce l'hai detto prima, hai girato il mondo, naturalmente continuerai a farlo perché poi gli spunti vengono anche conoscendo, cercando di conoscere più parti del territorio planetario, possiamo metterla così. Hai anche ottenuto dei riconoscimenti importanti per la tua attività di fotografa, tra cui ad Atene uno particolarmente significativo. Cosa significa per un fotografo poi ottenere la gratificazione di un giudizio che magari una giuria o degli esperti in ogni caso esprimono? Allora è strano perché per me la fotografia per tanti anni è stato un fatto assolutamente intimo non pensavo di esporre, non pensavo che potesse diventare una professione quindi l'avere un riconoscimento internazionale è sicuramente intanto un modo per capire che è il proprio modo di vedere il mondo perché di fatto è questa la mia fotografia, è condiviso anche da gente che non conosco da diverse parti del mondo e sicuramente è una gratificazione è anche un modo per confermare a se stessi il fatto che si sta seguendo un percorso intimo ma che viene in qualche maniera apprezzato dagli altri. Parlavi dell'esposizione al Verdura come della possibilità per te di essere a casa ecco il tuo rapporto con la tua città natale qual è? Il mio rapporto è proprio quello di casa per me è la mia famiglia, per me sono gli amici di sempre per me è il territorio di Sciacca del quale non riesco a fare a meno da lì sono partita e da lì torno c'è sempre comunque un rimando alle origini alla fine si cerca sempre e almeno io sono impregnata comunque della mia origine quindi il rapporto è di cuore assoluto. Ti ho fatto questa domanda appositamente perché siccome insomma Sciacca è un po' odio e amore per tutti noi che ne siamo figli quali sono, siccome molti si compiacciono a parlarne male di Sciacca diciamoci la verità a partire dagli sciacchitani quali sono gli scorci secondo te più belli di questa città invece? Tanti, tantissimi, fino a pochi giorni fa ne ho scoperto uno perché poi anch'io che sono nata e cresciuta qua ne ho scoperto uno dalla scala della piazza sul mulino, sul vecchio mulino Sacenze era veramente uno scorcio bellissimo cioè Sciacca è un quadro, ce ne sono realmente tanti Cosa riesce a fare la fotografia? L'anno scorso quando sono arrivati qui Dolce e Gabbana con l'evento che hanno organizzato circolava in rete una foto di piazza Purgatorio e l'impatto, era una foto che circolava sui social l'impatto è stato quello di non riconoscere Sciacca io per esempio in quel momento ho detto ma qui dov'è? Ecco, cosa riesce a fare la fotografia? Questo, riesce a dare alle persone che guardano una fotografia un modo nuovo di vedere io ho delle foto, per esempio in esposizione c'è una foto dei quattro canti di Palermo che ha una prospettiva completamente diversa Perché noi percorriamo quelle strade e non stiamo attenti Esatto, e molti non la riconoscono, mi chiedono ma dov'è? Sono i quattro canti, cioè uno dei posti più visti e più popolari di Palermo Qual è il luogo che hai visitato nella tua vita che ti ha dato più emozione di altri? Documentandoli evidentemente quando magari vai a consultare di nuovo le tue foto hai magari un moto anche di emozione Emozione Venezia Emozione Hong Kong Sono due realtà completamente, due città totalmente diverse però tra i posti che porto nel cuore e poi uno su tutti è Cuba Cuba è anche lì un posto assolutamente pieno di storia, di spunti, di colori Per certi versi molto vicina anche a noi Ma contemporaneamente distantissima Quindi Cuba forse è la prima Cuba è quella che ti ha dato più emozioni E quali sono adesso i prossimi paesi che magari pensi di poter andare a visitare? Io vorrei concludere, che poi è relativo perché so che non lo concluderò mai Questo lavoro in Vietnam e vorrei fare anche Singapore e gli Stati Uniti E chiudere questo percorso fino a un certo punto perché poi so che non lo abbandonerò mai Hai visitato tutti i continenti? Sì Stavo riflettendo E l'Africa cosa ti ha lasciato? L'Africa è l'altro posto del cuore L'Africa dico sempre che rimette al posto le persone nei confronti del mondo Perché l'Africa è uno schiaffo, positivamente lo sto dicendo Perché tutto è contemporaneamente di fronte ai tuoi occhi C'è la vita, c'è la morte, c'è la povertà, c'è l'allegria, c'è la felicità, c'è la violenza E quindi è un posto, è tutto anche a livello primordiale Quindi è come essere in un libro di storia e contemporaneamente ai giorni nostri Quindi l'Africa, tornerò sicuramente, è tra i viaggi che vorrò continuare a fare E come ti rapporti con le popolazioni locali quando visiti questi paesi? Perché ogni paese è una cultura, è un'impostazione anche mentale se vogliamo Qual è la tua... Intanto documentandomi prima Perché per esempio l'Africa ha una varietà di culture Anche da villaggio a villaggio di riti, di tradizioni che veramente bisogna conoscere A seconda di dove ci si sposta Quindi documentandomi e poi con il rispetto assoluto Che ho imparato ed affinato anche tramite progetti di cooperazione Cioè sono abituata ad andare nei posti Che visito comunque con un occhio alla reale situazione sociale e politica Difficilmente faccio il viaggio da turista Certo Ecco, parlavi di cooperazione, parlavi anche dei tuoi rapporti con le ONG Una domanda da questo punto di vista te la voglio fare Insomma, viviamo in un'epoca in cui la politica si fa anche con i temi Che sostanzialmente dal mio punto di vista riguardano veramente il dramma del vissuto umano Perché chi se ne va per esempio dall'Africa cercando una traversata E non si sa se riuscirà a completarla o se morirà naufrago Insomma, se qualcuno lo fa vuol dire che ha bisogno di farlo La tua sensazione qual è anche rispetto al fatto che questo dibattito è stato inquinato Da punti di vista che sostanzialmente deviano anche il corso della storia Perché, ripeto, chi si avventura in una traversata Ci sono ragazzi di 18 anni che arrivano qui che potrebbero anche averne 40 Per l'esperienza che hanno vissuto Qual è la tua opinione anche su questo tipo di dibattito? Guarda, io sono convinta, intanto che conosciamo molto poco O comunque viene trasferito tramite i media molto poco Di quelle che sono le realtà di partenza di queste persone Condivido assolutamente il fatto che chi affronta una situazione di questo genere L'affronta per disperazione Io sostengo anche che, ma è una mia opinione personale Che le migrazioni ci saranno sempre, che sono assolutamente naturali E che probabilmente troppi ostacoli rendono ancora più complicata la gestione Cioè se un ragazzo o una persona arriva da un determinato paese Perché comunque vuole andare e arriva da noi Perché di fatto arrivano da noi Siamo alle porte dell'Europa, come si dice Vuole arrivare in Spagna, in Finlandia Io sarei per una maggiore circolazione Comprimere tutti in un luogo come purtroppo succede molto spesso Non dare la possibilità di spostarsi, eccetera Rende veramente disumane le condizioni E rende anche la migrazione molto più difficoltosa Anche per i paesi che la accolgono Secondo me ci sarebbe una redistribuzione molto più naturale Se si accettasse il fatto che le migrazioni ci saranno sempre Come ci sono sempre state Anche noi E anche noi I nostri predecessori sono stati dei migranti al loro modo La tua mostra con Mistioni naturalmente avrà spazio anche a Palermo Sì, in realtà è stata in una dimensione diversa già l'anno scorso Non aveva il taglio, il focus proprio sulla Sicilia Sono stata ospite della settimana delle culture a Palazzo Sant'Elia per due mesi Da maggio a luglio Anche quella è stata una bella situazione perché alla fine si è riunito nel palazzo Sono riuniti diversi fotografi ed è stato, devo dire, un bel palcoscenico Io la domanda te la devo fare La fotografia è cambiata, no? Sì Dalla pellicola al digitale Tu che hai conosciuto anche la parte precedente di questa tecnologia Che tipo di opinione ti sei fatta? Allora Perché i cambiamenti spesso ci vedono impreparati Sì Ecco, tu sei una che invece hai dovuto Ho dovuto, hai detto bene Io sono stata molto E qual è la tua opinione su questo? Io sono stata recalcitrante col digitale proprio Mi sono abbracciata Ecco, permettimi di interromperti un attimo Perché siamo in una fase storica In cui rischiamo veramente che tra qualche anno non ci saranno più le fotografie Esatto Perché stiamo tutto documentando sul telefonino Ovviamente alla buona, non sto parlando di fotografie professionali E alla fine anche i nostri ricordi della nostra vita Rischiano di non esserci più proprio fisicamente Sì È vero anche Ed è una cosa della quale non si parla mai Che moltissimi fotografi professionisti sono ritornati alla pellicola Piccola parentesi tecnica Dal punto di vista qualitativo Una foto scattata e sviluppata da pellicola Ha una qualità assolutamente maggiore al digitale Che se ne voglia dire L'animo del commercio porta a dire che così non è Ma diciamo fotografi molto importanti Scattano ormai Ritornano al vecchio rullino E in parte lo faccio anch'io Ormai il digitale serve Quando si fa un lavoro di un certo tipo di qualità A fare sopralluoghi È molto più facile È molto più controllabile anche Ma quando si vuole fare una foto di buona qualità La pellicola ancora è imbattibile E si è ritornati a stampare A comprare rullini Quindi io sono a metà Nel senso che ho una macchina che mi consente Molto versatile e digitale Che mi consente di fare tutto quello che voglio Ma scatto anche con la mia vecchissima Pentax K1000 Grande amore della mia vita Anche con pellicola Il paesaggio Il valore del paesaggio In uno scatto fotografico Qual è per te il valore di questo paesaggio? Ma forse quello che colgo in commistioni Cioè il paesaggio non lo si può definire Ci sono tanti paesaggi C'è il paesaggio antropizzato C'è un paesaggio naturale Che ormai è sempre più difficile da trovare Cioè per me il paesaggio è l'insieme di tutto È quello che ci circonda Ed è poi quello da cui siamo permeati Quindi è fondamentale Ma è anche un paesaggio violentato In certe parti del mondo, no? Assolutamente Ma anche da noi Cioè non andando lontano Un paesaggio urbano In alcune situazioni è anche violentato Sì, vessato Ma abbiamo secondo te più consapevolezza Rispetto al passato Sugli errori che sono stati commessi Di superficialità Della cementificazione a tutti i costi Anche naturalmente degli interessi economici In questo senso Siamo più consapevoli Oppure saremmo pronti ancora A continuare a devastarlo questo paesaggio? Penso che la componente economica Faccia da padrone su tutto Quindi la consapevolezza c'è Sicuramente c'è dal punto di vista Dei professionisti Che si occupano di questo Ma poi i soldi vanno avanti E quindi se c'è bisogno di vessare ulteriormente Ahimè Se non c'è diciamo una difesa Anche dalle amministrazioni Eccetera Purtroppo continueremo Senti Letizia A Sciacca dopo questa mostra per ora al Verdura Cosa possiamo aspettare di te? Ci potrà essere qualche altra iniziativa? Ma io spero di sì Mi piacerebbe per esempio molto Anche organizzare Dei corsi O comunque vedere Incontrarmi con persone Che amano la fotografia A Sciacca Che devo dire Non ho mai incontrato Tanta gente O comunque non ho mai visto qualcosa di strutturato E quindi sì Mi piacerebbe sicuramente Poi comunque le foto come vedi Vengono anche su Sciacca Continueranno Quelle continueranno sicuramente E le iniziative culturali Viviamo in un'epoca in cui Qualche anno fa Un ministro all'epoca disse Che con la cultura non si poteva mangiare Le iniziative culturali In ogni caso Anche se così fosse Hanno comunque bisogno di essere organizzate Adesso poi siamo nel periodo Covid Quindi per ora è piuttosto complicato Rispetto a questo tipo di dibattito Qual è la tua opinione? Ma è abbastanza critica Nei confronti delle amministrazioni Con cognizione di causa Perché quando si deve risparmiare Si risparmia lì Esatto Intanto quello E poi perché per esperienza diretta Io sono stata consulente Volontaria assolutamente Per il comune di Palermo Per i progetti culturali E non c'era veramente Dove prendere i soldi E sono riuscita Siamo riusciti a organizzare Tutta una serie di manifestazioni splendide A partire dal Teatro Biondo A mostre Di tutto Con Intanto con i fondi europei Che ci sono E bisogna solo andarli a prendere Quindi se non si fa questo È inutile andare avanti E poi con la grande risposta degli artisti Siamo riusciti a organizzare una rassegna al Teatro Biondo Con per esempio Ma Dante Che era già all'apice del suo successo E che ci ha dato la sua disponibilità gratis Sono corsi tutti Gli artisti Abbiamo detto signori Gli artisti sono generosi Sì abbiamo detto C'è questa idea In questo momento Non abbiamo materialmente come fare Loro intanto ci hanno detto Come lei Cuticchio E tanti altri Ci hanno detto Noi ci siamo Dopodiché ci hanno anche finanziato il progetto Però si può fare Ecco bisogna volerlo fare Bisogna riuscire a mettere insieme le persone giuste Si deve fare E bisogna magari fare in modo che la cultura non sia all'ultimo posto Tra gli eventi magari finanziabili Perché l'artista magari è generoso Però per organizzare una mostra Tu mi insegni C'è bisogno anche della manovalanza Dove non è possibile Non è giusto pretendere No Grande Più di tanto la generosità No Noi ringraziamo tantissimo Letizia Palagonia Per essere stata nostra ospite Tu come fotografa hai un nome di battesimo molto importante Eh sì Voglio fare un riferimento a Letizia Battaglia come omaggio se tu sei d'accordo Assolutamente sì Grazie a tutti 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 Grazie a tutti